Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Il cambio circolatorio annunciato nei prossimi giorni è ormai in procinto di manifestarsi sul territorio italiano. Infatti un impulso fresco proveniente dal nord atlantico riuscirà a penetrare nel nord Italia entro la mattinata di domani per poi scivolare verso il centro sud per sabato. Ci attende dunque un venerdì ricco di manifestazioni temporalesche al nord Italia sin dal mattino ma in estensione anche al centro sud dal pomeriggio sere ancora più nella giornata di sabato. In Abruzzo ancora cielo azzurro domani mattina ma molto presto le nuvole andranno a coprire il cielo sulle zone interne con manifestazioni temporalesche seguite da nuove precipitazioni, questa volta provenienti da nord che dal Terramano andranno estendendosi entro sera notte anche sul resto della regione. La ventilazione da debole potrà divenire moderata sui monti entro sera prima da sud ovest poi da settentrione. I mari continueranno ad essere calmi o quasi. Le temperature minime della notte comprese tra 17 e 23 gradi mentre le massime di domani leggerà diminuzione e comprese tra 27 e 31 gradi. Un saluto da Marco.